Ciao a tutti e benvenuti in questa puntata, oggi, madonna pieno di roba, oggi andiamo a sboxare questo pacchettone che è arrivato rettangolare, qua ce l'ho a fianco, è alto quasi come me, dico quasi perché non è alto come me, ho altri due pacchi in arrivo e non sapevo se spacchettarli direttamente tutti e quattro insieme, tre, tre, tutti e tre insieme, o prima fare uno e poi l'altro, siccome c'è la roba che deve partire ho detto allora spacchetto, faccio vedere quello che è arrivato e poi facciamo partire tutto quanto, ci vediamo dopo la sigla. Benvenuti, come state? Spero tutto a posto, andiamo subito ad aprire, non vi faccio perdere nemmeno tempo, vi faccio vedere cosa mi è arrivato perché c'è anche della roba mia, ci dovrebbe essere della roba mia, non lo so, allora, lo apro giù perché altrimenti succede un disastro qua dentro, tanto, raga, bello alto questo, eh, allora, anzi, lo apro così, me la rischio per fare un po' di audience, per fare un po' di audience, oddio, ho spaccato il poimento, allora, tiro giù, Ok Oddio, questo... Allora, iniziamo a tirar fuori, io sinceramente, ovviamente, tra i vostri preordini dove comprate su mamamelocompri.com, tra le vendite un po' dell'usato e un po' del resto, io non ci sto capendo più niente, perché sto veramente vendendo un botto di roba e forse, forse dovrò assumere un assistente a questo punto, perché veramente non pensavo di espandere così tanto i miei orizzonti, perché ho anche un'altra vita, sapete, faccio altro nella vita, quindi... Sto diventando tutto difficile, cioè fate conto che almeno due o tre ore al giorno li evado e diventa un po' complicato, ma io vi ringrazio, grazie davvero di cuore, grazie per il supporto sui social, ricordatevi di seguirci. Vediamo che cosa mi sono comprato innanzitutto, vediamo, guardo prima io così... Allora, qua c'è roba che non è del tutto mia, ok, perfetto, va bene, allora, c'è un po' di roba che non è mia, però della roba è mia, cioè, non so se mi sono stilato, iniziamo. Questo è, ragazzi, questo è tantissima roba, ma c'è un altro più bello che però è stato venduto oggi, l'unico che avevo, che era mio in realtà, poi era sul sito, quindi l'ho venduto. Allora, abbiamo, partiamo da questo Batman gigantesco, McFarlane Toys, digital, McFarlane Digital, ed è la versione quella blu, non so se la conoscete, vedete, guardate, questa è molto, 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 molto bella. Tra l'altro è gigantesca, io ora la metterò magari in vendita, ma vorrei tenerla io, perché mi capita di vendere delle cose e poi non metterle, non è che mi dimentico, proprio non voglio venderle, capito, e quindi non lo faccio, cioè di base non lo faccio. Allora, bella, spero di non venderla, sinceramente. E, allora, abbiamo anche delle cose piccole, Iron Studios, Artscale 110, questa è una Iron Studios che mi hanno acquistato dal sito, a un prezzo scontatissimo, tipo 68 euro, io devo controllarla, in ogni caso, perché sapete che le statue in resina vanno assolutamente controllate, sempre. Eccola qua, questa me la controllo da sola dopo, abbiamo la brown box, questa qua, ragazzi, si è supportata via a 68 euro, anziché 170, una roba del genere, perché era un'offerta che, se non lo sapete, sul sito ci sono le offerte che ogni giorno arrivano, ogni ora vengono riaggiornate, eccetera, io non so neanche quello che ho. E questa che mi hanno comprato è molto interessante, guardate che carina, molto bella, Iron Studios, perfetto. Questa la mettiamo qua, che è di un cliente, quindi deve partire, la rimetto qua, che poi me la vado a controllare. Fantastico, poi abbiamo, cosa abbiamo qua? Un'altra Iron Studios, questa invece è mia, comprata anche questa, ovviamente io ho un prezzo più basso, perché sono un rivenditore, erai in super offerta, mi sono comprato una piccola statua di visione, che vi faccio vedere in anteprima, cioè in anteprima, mi sa che è anche vecchia, e se non le hanno, se ce l'avevano lì in magazzino, vuol dire che era un po'... Ecco, mi sono comprato questa, questa qua mi sono comprato, guardate, WandaVision, vogliamo vederla insieme? Ma sì, dai, la faccio vedere, tanto siamo qua, dai, guardiamola insieme, prima di sboxare tutto il resto facciamo questa pausetta, allora, io non vi dico, questa forse ce ne sono ancora, l'ho presa perché costava talmente poco, che mi veniva da piangere a lasciarla lì, quindi ho detto, vabbè, la compro e me la tengo come soprammobile, bella, caruccina questa. Io per quello che l'ho pagato, che non posso dirvi il prezzo da rivenditore, ma è veramente basso, è carina, cioè niente di spietato, niente di super mega hyper powered, ma direi che comunque, cioè, è una piccola statuetta, carina, la mettete sulla sua pedana e la usate come soprammobile. Perché tra l'altro la pedana pesa un botto, cioè, veramente un botto. E la pedana, tra l'altro, è pure simpatica, perché così dovrebbe stare. Poso un attimo il video, che vado a posarla prima che mi si rompe. Allora, stavo valutando il fatto che forse, tutto sommato, quella statua di visione non è così bella. Forse la provo a mettere in vendita, vediamo. Se me la comprano, sono felice. Forse sì, forse ho fatto un acquisto un po' impulsivo. Un po' impulsivo... Non fate acquisti impulsivi, raga, cioè, non fateli mai, solo perché vedete delle cose, così... Allora, questa, se era un fondo di magazzino, un motivo dovevo sospettarlo. Però, secondo me, la piazzo. Secondo me, un fan di visione lo trovo. Di queste ne ho già vendute due. Denun, ragazzi, Neka, che mi è arrivata... Una è già andata, che se lo sono venuti qua a prendere, e questa è l'altra che parte in felicità. Poi me ne deve arrivare un'altra, quindi, perché quando le vendo le ricompro, ovviamente, così. Poi, non c'è più spazio. Poi abbiamo, eh, questo che mi hanno comprato, eh, questa... Abbiamo delle chicchette. Allora. Qua abbiamo l'altro Batman che era mio. Questo era veramente il mio nero. Questo era il mio Batman, McFarlane Toys, ragazzi. Questa era una Gold Label bellissima. No, DC Direct, scusate, Gold Label, ormai non so di che cosa sto parlando. By Todd McFarlane. Bellissima. Questa è veramente una statua. Che, purtroppo, venduta oggi. E, niente, l'unica che avevo è andata ed è sold out. Quindi, non guardatela nemmeno, perché non vi interessa. Invece, altre due cose che ho venduto, molto interessanti, sono... Vediamo, questa è roba mia? Forse è roba mia questa qua, non lo so. No, questo è un altro ordine. È un preordine, in realtà, che mi era stato fatto. Che adesso spedirò direttamente. Neanche me ne ero reso conto che mi era arrivata questa. Vabbè, questa qua è McFarlane Toys, Demon Slayer. Carina, guardate che... Questa non è male, eh. Questa, se sei un appassionato, anche qualità-prezzo. Direi che ci sta. Anche quella deve partire. Poi, abbiamo... Questa me la son comprata per me. Questa me la son comprata per me. E questa veramente è un prezzaccio, raga. Incredibile. Questa è una... Cos'è? Hot Toys, forse? No, Iron Studio. Iron Studio. Se ne ho prese due, perché secondo me una la riesco a piazzare. Sono questi Batman con in mano... Vedete? Sono questo Batman qua con in mano... Aspetta, non mi faccio vedere. Con in mano la carta dell'Enigmista. Boh, a me piaceva un po' come è fatto a livello di... Cioè, in generale, non mi dispiace. Cioè, dico... Dico, boh, carino. Cioè, tutto sommato. Vabbè, ne ho presi due. Vediamo se... Vediamo, è uno sconto. Date Batman. Poi... Ah, raga! Ne ho un altro di Batman. Ma che notizia incredibile! Guardate! Non ci posso credere. Ne ho due. Quindi c'era un altro. Ma sono troppo felice, perché la volevo io questa. Ma sono troppo contento. Ma guarda qua. Ma è pazzesco. Ma non lo sapevo. Ma grandissimo. Perché io... Io... Ci vedo lungo. Ci vedo molto lungo. Poi abbiamo... The Joker. Ecco, The Joker DC me lo sono... Non lo so. Dovrei aprirlo per vederlo. Questo The Joker DC. Che è carino. Una versione molto figa. E questo... Anche da vendere è difficile se non hai le foto. The Deadly Duo. Boh. Interessante. Interessante forse. E poi abbiamo... Eh, raga! Queste se le sono portate via a 40 euro. E vi dico solo questa roba qua. 45, 41 euro per le spedizioni. E chi ha fatto questo acquisto, raga, è stato molto, molto, molto intelligente. Perché se hai comprato le BSXT delle Trattarughe Ninja, quindi The Loyal Subject, con il cartone della pizza, una quarantina di euro. E... Guardate. All'interno. Le quattro turtles in bianco e nero. Ok. Sono in bianco e nero, per l'amor di Dio. Non sono a colori. Non vedo. Non sto vedendo. Guardo da qua. Vedetele? Se le volete, scrivetemi e vediamo se ci sono ancora, eh. Perché magari non ce ne sono più. Queste, ragazzi, per il prezzo che hanno, veramente, se non le comprate, siete dei folli. Criminali. Totalmente pazzi. Queste sono belle. Me le sono comprate pure io, mi devono arrivare per me. Belle, due, di due clienti. Eccole qua. Pronte a partire anche loro. Direi che per oggi è tutto. Appena mi arrivano gli altri pacchi, ve li faccio vedere. E grazie per essere stati con me. E-commerce lo trovate anche qua sotto, con i prodotti tutti linkati. Ricordatevi che è pieno di offerte. Scrivetemi se volete qualcosa in particolare, se non trovate. E mamamelocompri.com. Grazie per avermi seguito. Andate sui nostri social. E se vi è piaciuto il video, se te conoscete un appassionato di action figure, condividete. Ciao.